Parliamo di questo Oktoberfest fino a domenica, giorni di festa proprio a Pescara Vecchia all'insegna della birra e non solo. Certamente come consorzio abbiamo pensato di realizzare questa festa della birra in stile bavarese con questa idea che ha avuto un grandissimo successo ieri e questa festa durerà fino al 4 ottobre. La particolarità è che saremo aperti anche a pranzo nella giornata di sabato e di domenica quindi faremo sabato e domenica anche a pranzo oltre che la cena. C'è l'intrattenimento musicale, c'è un grande divertimento, le persone ieri erano veramente in una grande atmosfera di festa oltretutto perché abbiamo moltissimi posti al coperto quindi anche se dovesse esserci un po' di pioggia. Oltre mille persone nella giornata di ieri? Assolutamente sì, abbiamo avuto nell'arco della serata oltre mille persone che si sono alternate e che si sono divertite.